Dal diario di Santa Faustina Kovalska Desidero che i sacerdoti annuncino la mia grande misericordia per le anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura di avvicinarsi a me. Le fiamme della misericordia mi divorano. Voglio riversarle sulle anime degli uomini. Poi Gesù si lamentò con me dicendomi «La sfiducia delle anime mi strazia le viscere. Ancora di più mi addolora la sfiducia delle anime elette. Nonostante il mio amore inesauribile, non hanno fiducia in me. Nemmeno la mia morte è stata sufficiente per loro. Guai alle anime che ne abusano». Santa Faustina Kovalska prega per noi e per il mondo intero. Gesù, confido in te.